La Cina denuncia presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio la decisione di Donald Trump di imporre nuove tariffe su 200 miliardi di prodotti cinesi, perché i dazi USA potrebbero azzuppare anche tecnologicamente il dragone. In realtà la ritorsione americana scatta a settembre. La gran fretta di Pechino non dipende solo dalla fragilità commerciale, l'economia frena del 6-7% nel secondo trimestre 2018, ma anche dalla politica interna con la guerra di potere fra Wang Qishan, uno dei vicepresidenti, già capo della Commissione Anticorruzione, e il presidente Xi Jinping, come ha indicato il dissidente cinese in esilio negli USA, Wei Jing Zhang. L'ultima soluzione sarebbe quella di una minore esposizione mediatica del presidente, un rituale consolidato. I media britannici, i Reuters in test, si interrogano su Wang Qishan, molto apprezzato dagli Stati Uniti, che lo verrebbero nei negoziati al posto di Liu He. Gli Stati Uniti vogliono un commercio più eco con Pechino. Ciò pretende, secondo loro, la riforma di un sistema legale ingiusto. In realtà la battaglia economica fra il Dragone e l'Aquila americana è già furente in Africa, dove Washington ha tentato di contenere l'espansionismo cinese attraverso pesanti campagne di informazione rivolte ai paesi africani. Xi Jinping è stato un promoter favoloso del suo paese in Africa, ed oggi sulla scorta di un progetto di delocalizzazione industriale legato proprio al drastico crollo delle esportazioni di materie prime verso l'Occidente, anche la presenza militare cinese è diventata poco discreta nel continente nero. Le risorse cinesi sono sempre più utilizzate dalla nascente industria africana supportata da Pechino. Ma l'Africa basterà compensare la riduzione delle esportazioni verso gli States? Sembra difficile rispondere di sì, ma se così fosse, quale sarà la nuova mossa statunitense in Africa?